Bar, ristoranti, palestre, cinema, teatri continuano ad essere bersaglio mobile di qualunque DPCM. Primi colpevoli dello sviluppo del virus, depositari massimi del contagio, quanto decretato ieri dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con misure drastiche a poco senso e temo non produca gli effetti sperati. E quanto afferma oggi il parlamentare ibleo della Lega, Nino Minardo, che si scaia ancora una volta a favore delle classi più penalizzate dall'ultimo decreto presidenziale. Lo fa perché afferma che la stragrande maggioranza degli operatori di questi settori rispetta le regole per farlo, ha affrontato spese di adeguamento e fatto rinunce nel rispetto di tutti i protocolli, distanziando, sanificando, usando le mascherine e altro ancora. Minardo quindi si chiede perché farli chiudere, perché i bar e i ristoranti possono aprire a pranzo e non a cena, così facendo non chiuderanno alle 18 ma rischieranno di chiudere definitivamente in Sicilia, oltre 25.000 imprese sono già in grave sofferenza. Secondo il parlamentare leghista, servono aiuti immediati e concreti, e non annunci. Nessuna attività che rispetta le regole anti-Covid deve chiudere. Si pensi seriamente piuttosto a rafforzare i controlli e il sistema sanitario, con più medici e infermieri, più posti letto per garantire cure e consentire a tutti di lavorare in sicurezza. Dello stesso parere anche il sindaco di Modica, Ignazio Abate, che parla di una mazzata ingiusta verso tante attività commerciali che costituiscono una fetta importante della nostra economia. Per questo il primo cittadino promette provvedimenti di ristoro. Abate oggi si è soffermato su palestre, piscine e centri sportivi. Per mesi la loro apertura è stata subordinata all'adeguamento delle nuove norme che ha comportato l'investimento di ingenti risorse economiche. Per sopravvivere si sono ampliati i locali, acquistate nuove attrezzature, assunti nuovi istruttori per sdoppiare i corsi, si sono dotate le strutture di ogni possibile presidio sanitario e sanificante. Insomma, tutto quello che c'era da fare è stato fatto. Nonostante questo è arrivato uno stop che ritengo continua Abate ingiusto e insensato, uno stop che rischia di diventare definitivo in molti casi. Il tutto senza contare, conclude Abate, l'importanza che queste attività hanno per il benessere fisico dei loro clienti. Per loro e per tutti gli altri comparti economici della città di Modica, più che la solidarietà dovuta, stiamo per mettere in campo alcuni provvedimenti che ricalcano quelli presentati durante il lockdown di primavera. Si spera di portare un minimo ristoro a tutti. Grazie a tutti.